Salve amici del segreto, in questo video andremo a vedere il libro Lo yoga del respiro di Richard Rosen. Non c'è asana senza pranayama, gli insegnamenti tradizionali, gli ostacoli in cui si imbatte il principiante, mappe, le indicazioni utili alla pratica e l'impiego di semplici sostegni per gli esercizi, coperte, sedie, mattoni, cuscini. Vedremo quindi consigli molto pratici e spiegazioni chiare riguardo alla giusta pratica del respiro. Cominciamo subito con il riassunto del video. Esiste un modo corretto e uno scorretto di respirare. Per diverse migliaia di anni gli yogi hanno fatto ricorso alla potente pratica del pranayama, una tecnica di controllo del respiro per massimizzare il prana, ossia l'energia vitale. Il pranayama è stato praticato per ringiovanire il corpo e come mezzo di autoapprendimento e autotrasformazione. Mentre la maggior parte dei praticanti di yoga oggi si concentra sulle asana o posizioni del corpo, un numero crescente di persone sta imparando la pratica complementare del pranayama per approfondire e arricchire la propria pratica. Lo yoga del respiro è una guida per imparare i fondamenti del pranayama e incorporarli in una pratica yoga esistente. L'approccio di Rosen è facile da seguire, con descrizioni passo dopo passo degli esercizi di respirazione e di consapevolezza corporea accompagnate da chiare illustrazioni. Il libro tratta la storia della filosofia del pranayama e offre consigli utili per la pratica. Probabilmente sapete che quando il vostro respiro cambia, cambia anche il vostro umore. Se state respirando a ritmi veloci, dovreste sentirvi ansiosi e quando iniziate a sentirvi rilassati, anche la vostra respirazione risponde diventando più tranquilla e rilassata. Ma cosa succede se le cose che conoscete sulla respirazione sono sbagliate? E se proprio come il vostro stato d'animo ha un impatto sulla vostra respirazione, anche la vostra respirazione avesse un impatto sul vostro stato d'animo? Come vedrete in questa sintesi, il modo in cui respirate durante il giorno ha un grande effetto sulla vostra salute psicofisica. Purtroppo però molti di noi respirano male. Questo causa notevoli problemi per la nostra salute. Cosa suggeriremmo ad una persona che deve calmarsi? Bisogna dirgli di fare un respiro profondo. Le persone che praticano lo yoga conoscono da secoli il legame tra respirazione e consapevolezza. In effetti il controllo del respiro è una componente fondamentale della tradizione yoga. Questa pratica prende il nome di pranayama che deriva dalle parole sanscrite prana che indica il respiro e ayama che indica il controllo. Si ritiene che il pranayama sia nato dai sacerdoti brahmanici, scusate, antichi uomini santi che adoravano cantare gli inni chiamati Veda. Questi sacerdoti riconobbero che se avessero controllato il loro respiro mentre cantavano avrebbero potuto recitare i Veda più intensamente. Soprattutto respirare in modi diversi permette di cambiare il proprio stato d'animo. Tuttavia i vantaggi della pratica del pranayama superano il culto iniziale. Viviamo in un mondo di stress dove molti di noi trascorrono molto tempo alla scrivania. Il pranayama può rappresentare un'ottima medicina contro l'ansia e il malessere. Il più delle volte una respirazione errata deriva da una cattiva postura, da muscoli respiratori deboli o semplicemente da un'ansia cronica. Ma come si presenta una respirazione scorretta? Le persone che respirano in modo inefficace fanno respiri rapidi, leggeri e preferiscono usare la bocca per respirare. Tutti noi abbiamo avuto momenti di panico ma respirare in modo inefficiente per tutto il tempo può comportare problemi significativi per la salute. Respiri rapidi e leggeri riducono la quantità di anidride carbonica nel sistema circolatorio e questo riduce il ritmo di circolazione dell'ossigeno nel corpo e nel cervello. La conseguenza? La scarsa ossigenazione provoca un aumento o un'anomalia del battito cardiaco e un'ansia cronica. Può anche trasformarsi in una persona distratta e smemorata. Al contrario una respirazione efficiente e corretta ci fa sentire immediatamente rivitalizzati. Le persone che respirano in modo efficiente fanno respiri lenti e profondi. A differenza di chi respira male che respira dalla parte superiore del petto, chi respira in modo efficiente usa l'intero diaframma e il busto durante la respirazione. Inoltre durante la respirazione si usa il naso invece della bocca. La respirazione nasale riduce il ritmo della respirazione e consente ai polmoni di ricevere molto ossigeno a ogni respiro. In questo modo il corpo raggiunge una proporzione salutare di ossigeno e anidite carbonica oltre ad avere una mente più chiara e uno stato più calmo. Dovreste iniziare il vostro viaggio nel pranayama con una mente calma. Il significato di pranayama è quello di imparare a controllare il respiro ma non è l'unica cosa di cui si occupa questa antica pratica. Come componente della tradizione yoga il pranayama è completato da rituali specifici da seguire. Questi rituali di base diventeranno una parte fondamentale della vostra pratica proprio come il controllo del respiro. I rituali più importanti del pranayama riguardano l'armonia, il tempo e lo spazio. La tradizione dello yoga sottolinea l'importanza della regolarità. Dovreste avere l'obiettivo di praticare il pranayama ogni giorno ma potete saltare uno o due giorni se necessario. Il momento migliore per praticare il pranayama è l'ora di Brahma cioè l'ora che precede l'alba. Nell'ora di Brahma la mente e il corpo si calmano e si risvegliano dal sonno e l'atmosfera è carica di energia cosmica. Se la routine mattutina non è adatta a voi potete scegliere un'altra ora e la cosa più importante è praticare ogni giorno alla stessa ora. Dovreste dedicare uno spazio fisico alla vostra routine di pranayama scegliete una stanza che vi renda tranquilli e sicuri andate a praticare con abiti larghi e comodi e a stomaco vuoto in modo che la digestione non vi distragga. Iniziare con calma è importante perché concentrarsi sul respiro è difficile se ci si sente arrabbiati o infelici. Potete calmarvi aggiungendo una breve routine di apertura all'inizio di ogni sessione. Iniziate questo rituale guardando verso est. Questo è il modo in cui sorge è la posizione in cui sorge il sole e inoltre gli yogi credono che l'est sia il contenitore dell'essenza del mondo. Successivamente trascorrerete un po' di tempo in silenzio usando questo tempo per pensare a come dedicare la vostra pratica al divino. Anche gli aspetti più pratici sono importanti e ricordate che durante la routine di pranayama dovreste respirare attraverso le narici. Ciò significa che dovrete pulire i seni paranasali. Inoltre tenere un diario del proprio percorso di pranayama è un'ottima opzione. Seguire la pratica con questo metodo vi permetterà di organizzare le sessioni durante il percorso mantenendo le cose che funzionano per voi e scartando quelle che non funzionano. Riconosce il vostro vero sé. Poiché siete un nuovo studente di pranayama è probabile che siate entusiasti di iniziare la vostra pratica ispirati a migliorare il vostro respiro e le vostre sensazioni. Molti studenti entusiasti iniziano il loro viaggio nel pranayama con pratiche di respirazioni complesse e questo è un problema perché non hanno ancora sviluppato le basi della loro pratica. Perciò prima di affrettarvi a partire ricordate per capire dove volete arrivare dovete prima riconoscere dove siete. Prima di iniziare il pranayama rilassatevi con una pratica che vi aiuti a conoscere meglio la vostra mente e il vostro corpo. Per farlo fatevi aiutare dal testimone. Rosen chiama il testimone un amico che vi aiuta a vedervi in modo obiettivo. Questa persona non ha alcuna aspettativa vi aiuta a capire che i vostri sentimenti e le vostre opinioni sono del tutto temporanei non possono descrivervi è probabile che siate tentati di esaminare o giudicare le situazioni temporanee che scoprite da soli il testimone vi guida ad ammetterle e basta se non l'avete ancora capito il testimone non è una persona diversa è invece una forma diversa di vedere il mondo che potete controllare da soli in che modo potete connettervi al vostro testimone interno. iniziate con il rilassarvi su una sedia e chiudere gli occhi ora immaginate di allontanarvi dal vostro corpo e di fissarvi da quella piccola distanza pensate di fissare un affascinante mistero da risolvere ora fate scorrere l'occhio interno su tutto il corpo dalla punta dei piedi alla sommità del capo che effetto fa sentire ogni parte di voi stessi dalla pelle alla schiena alla fronte che cosa vi rendete conto del modo in cui il vostro corpo respira la pratica del testimone è utile perché vi fa capire che il modo in cui respirate normalmente può non essere quello giusto dato che siete nuovi studenti potreste esservi resi conto che prima non eravate consapevoli della vostra respirazione autentica si può scoprire che alcuni modi di respirare sono inefficaci o inutili un ulteriore vantaggio è quello di osservare che dopo aver visto il proprio modo di respirare sbagliato questo comincia a migliorare da solo sarebbe però stupido intraprendere un viaggio senza avere una mappa lo stesso vale per il viaggio del pranayama tuttavia non si può acquistare la mappa del pranayama in un negozio qualsiasi piuttosto dovreste crearla voi stessi con un piccolo tocco del vostro testimone all'inizio della vostra routine di pranayama mapperete la superficie del vostro corpo anche nelle parti che non potete guardare il motivo è che quando si respira senza consapevolezza delle sezioni interne del corpo abbiamo dei problemi secondo Rosen pensare al proprio corpo come a qualcosa di piatto e bidimensionale non è una grande idea questo modo di pensare si traduce in respiri leggeri che non raggiungono la profondità del corpo rendendovi affamati d'aria questo si ottiene stando sdraiati in shavasana questa posizione yoga richiede di sdraiarsi sulla schiena e di rimanere immobili il più possibile mentalmente e anche fisicamente dopo aver assunto questa posizione connettetevi al vostro testimone ora potete iniziare a mappare le vostre regioni interne quindi potete cercare di sentire di vedere ogni parte del vostro corpo singolarmente una delle aree interne più significative da mappare è la gabbia toracica le costole si muovono costantemente durante l'inspirazione e l'espirazione in realtà se le nostre costole non si muovessero non potremmo respirare inoltre si muovono in tutte le direzioni non solo verso il basso o verso l'alto ma anche verso l'interno e verso l'esterno i movimenti sono guidati dai muscoli respiratori come gli scaleni e gli intercostali purtroppo molti di noi hanno costole anelastiche che non riescono a muoversi bene di solito a causa di una postura scorretta o di uno stress emotivo per costruire una mappa immaginativa della gabbia toracica sono sufficienti tre o quattro minuti per osservare il movimento delle costole partendo dalle costole inferiori mettete le mani sopra le costole che si trovano davanti al petto alla fine sollevate le mani verso l'alto avvicinandole alla parte superiore della gabbia toracica incrociando le mani la mano sinistra deve toccare il lato destro del corpo e viceversa vi siete fatti un'idea della sua lunghezza altezza e ampiezza seguendo questa logica dopo aver ottenuto alcune informazioni sul modo in cui si muove la gabbia toracica non esitate ad annotarle nel vostro diario di pranayama il modo in cui utilizzate le narici ha un grande effetto sulla vostra consapevolezza fino a questo momento avete incontrato il vostro testimone e avete ottenuto una mappa del vostro corpo tuttavia per iniziare seriamente il vostro viaggio nel pranayama avrete bisogno di qualcosa di più uno strumento di base ma fondamentale del pranayama è la stabilità nasale lo studio di questa abitudine vi sarà utile per prepararvi a tecniche più complicate nel corso del vostro percorso l'equilibrio delle narici è fondamentale poiché il respiro non fuoriesce in modo uniforme da entrambe le narici in qualsiasi momento si respira principalmente nella narice destra o sinistra mentre quella opposta è leggermente bloccata questo fenomeno prende il nome di dominanza delle narici senza saperlo si passa da una narice all'altra ogni due ore circa quando si respira con la narice sinistra il cervello destro è più efficace secondo la tradizione yoga il cervello destro è correlato a idanadi che è conosciuta come la parte più pacifica e femminile al contrario se si respira nella narice destra è il cervello sinistro addominale il significato è che pingala nadi la parte maschile e selvaggia diventa più attiva è significativo che gli yogi non cerchino di cambiare la narice che stanno usando con l'altra al contrario modificano il modo di respirare in modo da utilizzare entrambe le narici contemporaneamente questo equilibrio è una componente fondamentale dello yoga in realtà la parola yoga viene solitamente spiegata come equilibrio l'equilibrio del flusso d'aria di entrambe le narici riduce i pensieri le opinioni e i sentimenti che disturbano la nostra consapevolezza gli yogi bilanciano le narici con un bastone a forma di stampella chiamato danda in modo tradizionale tuttavia è possibile ottenere l'equilibrio nasale utilizzando solo le mani in primo luogo si preme il dito su un lato del naso in modo da bloccare la narice da quel lato successivamente respirate con la narice ancora aperta prendete mentalmente nota della facilità con cui l'aria passa attraverso quella narice in seguito eseguite lo stesso metodo per l'altra narice la narice in cui l'aria passa più semplicemente e quella dominante si può praticare il pranayama rallentando alcune sezioni del ciclo respiratorio in sanscrito il significato di ujaji è conquistare quindi il seguente strumento è il pranayama ujaji chiamato anche respiro del conquistatore per eseguire con precisione il respiro del conquistatore è necessario gonfiare il petto come una sorta di generale militare in questo modo i polmoni useranno tutta la loro capacità quindi bisogna gonfiare al massimo una sorta di come una persona ad esempio che si presenta davanti a voi con massimo orgoglio per prepararsi al respiro del conquistatore sedetevi dritti o sdraiatevi in primo luogo uniformate le narici con la tecnica del pugno chiuso una volta terminata questa operazione è bene che il testimone osservi il modo in cui si respira a questo punto non bisogna cercare di controllare la respirazione piuttosto osservate solo ciò che sta già accadendo i difetti tutto il resto se siete capaci non vedete voi stessi come se respiraste ma immaginate il vostro corpo come se respirasse per voi quindi distanziandovi in un certo senso dal vostro corpo dopo qualche istante in cui vi siete resi conto della vostra respirazione abituale è il momento di correggerla concentratevi sulla riduzione della velocità del respiro mentre rallentate le ispirazioni e le ispirazioni pensate a come è cambiato il vostro stato d'animo vedete una differenza dopo aver iniziato ad ispirare più lentamente e com'è la situazione mentre ispirate lentamente dopo esservi posti queste domande siete pronti per iniziare il respiro del conquistatore iniziate a respirare in profondità nel vostro corpo immaginate il vostro respiro come un ascensore che sale sale dal piano interrato che è il vostro inguine in seguito va all'ultimo piano lattico situato nella parte superiore del busto mentre ispirate lavorate per espandere il petto verso lo sterno e la clavicola l'espansione di queste parti creerà un'area maggiore per l'ingresso del respiro rendetevi conto che mentre respirate iniziate a sentirvi più leggeri e proprio come un palloncino che potrebbe volar via potete compensare questa leggerezza ancorando il vostro respiro al suolo per farlo allungate il coccige avvicinandolo al pavimento il più possibile questo grande respiro dovrebbe farvi sentire pieni di energia e pronti a tutto in realtà secondo la tradizione yoga il respiro è considerato la via per l'azione nota come pravritti marga immaginate l'ispirazione come un'attività fisica di base che stimola il corpo e anche la mente pensate che ogni respiro che attraverso ogni respiro state riempendo il vostro corpo con lo spirito dell'intera creazione per capire meglio il vostro respiro dividetelo in parti dal momento che pensate di fare qualcosa non la farete mai di solito è nell'intervallo tra il pensare e il fare che riflettiamo su noi stessi e sulla cosa che desideriamo parafrasando questo intervallo ci fornisce una migliore consapevolezza di noi stessi questo vale anche per la respirazione se si concepisce la respirazione ma poi si sceglie di rimandarla o di interromperla si raggiunge una migliore consapevolezza del proprio respiro questo metodo è chiamato viloma pranayama o respiro controcorrente è l'opposto del modo in cui si respira normalmente normalmente mentre si respira non c'è alcuna interruzione tuttavia quando si respira con il metodo controcorrente si interrompe la respirazione in inglese si chiamerebbe il metodo against the grain lo si interrompe e lo si lascia andare a intermittenza quindi per ogni fase dell'inspirazione una sezione diversa del busto viene caricata d'aria e a ogni passo di espirazione una parte diversa del busto si svuota per capire il tempo di inizio e di fine della respirazione è necessario dividere il busto in parti immaginate che una parte vada dalla base della clavicola fino a sotto le ascelle ad esempio e un'altra parte può iniziare dalle ascelle e finire allo sterno è possibile dividere le respirazioni tuttavia quando si inizia questo metodo è meglio dividere solo l'una o l'altra in ogni sessione se dividete il respiro osservate il modo in cui influenza il vostro stato di coscienza lo stato mentale varia a seconda che si respiri attivamente o che ci si fermi lo stato di coscienza può variare durante le pause cercate di capire se riuscite a mantenere lo stesso stato di coscienza modificato anche quando riprendete a respirare la respirazione contocorrente è molto efficace perché vi dà una grande consapevolezza del vostro respiro e vi aiuta a gestire la respirazione grazie a questo metodo vedrete che ogni respiro ha un inizio un punto centrale e una conclusione riconoscerete che i vostri respiri si concludono con piccole pause che danno la possibilità di riflettere scegliendo consapevolmente le pause e i punti di riflessione invece di lasciarli fare automaticamente otterrete informazioni maggiori sul vostro respiro e vedrete come ogni sezione del processo influisca sulla vostra coscienza ricapitolando quindi una postura scorretta e l'ansia emotiva possono causare abitudini respiratorie scorrette in cambio una respirazione inefficace crea maggiore ansia e disagio emotivo la conseguenza è un circolo vizioso di cattivo benessere e respirazione errata tuttavia si può riuscire a controllare il respiro e lo stato d'animo praticando il pranayama con pazienza e impegno inizierete a respirare meglio assicurandovi che il vostro corpo e la vostra mente siano pieni di energia durante la giornata questo era il libro lo yoga del respiro di Richard Rosen si tratta di consigli molto pratici spiegazioni chiare riguardo alla giusta pratica del respiro spero che il video vi sia piaciuto vi ringrazio della vostra attenzione ci sentiamo nei prossimi video ciao